Il legislatore ha dato grande importanza all'obbligo informativo, l'imprenditore professionista deve dare delle informazioni in riferimento alle proprie generalità, alla propria identità, al prezzo, comprensivo di qualsiasi altro prezzo supplementare tipo spese di spedizione, deve dare informazioni sulla durata del contratto, se a tempo indeterminato, se con il rinnovo automatico, in questo caso deve anche informare sul fatto se si può recedere e quando e deve dare informazioni ovviamente sul recesso, deve fare un promemoria anche sulla garanzia legale e c'è tante altre informazioni. Poi per quanto riguarda il recesso stesso, è stato unificato il termine per recedere da un contratto che è adesso di 14 giorni di calendario, finora avevamo i 10 giorni lavorativi. Questa è una novità particolarissima e molto importante. La comunicazione di questo recesso va fatta in un modo esplicito, questo è quello che dice il legislatore e lì il professionista deve mettere sulla propria home page o comunque mettere a disposizione del consumatore un modulo standard per il recesso, lo può utilizzare o meno, questa è poi la decisione del consumatore. Il recesso si prolunga in caso che il professionista non avesse dato tutte le informazioni sul recesso stesso ed è un nuovo termine di 12 mesi al di là del termine iniziale di 14 giorni. Per quanto riguarda poi la restituzione del bene, il più delle volte il costo per la restituzione del bene deve sostenere il consumatore stesso.